Io 20 anni prima, 25 anni prima, perché loro non si sa neanche lontanamente di andare sulla luna, vi ho fatto questo quadro. Qui c'è questa tragedia che è caduta su questo pianeta, un pianeta che non c'è il sole che riscalda. Che freddo, è freddo come la luna veramente. Allora queste montagne si sono umanizzate e stavano ad andare incontro per sollevare la cosa da questo racconto, in questa specie di paese squallido, freddo. Ed era infatti Amstel che cominciava a morire i primi passi sulla luna con la sua tuta per il corso del vettore. E l'ha fatto prima, perché gli artisti hanno queste intuizioni di anni prima. Dopo si accorge che ha avuto bell'ispirazione. E queste sono delle cose per me più care e più importanti. Grazie.